Sarà la gara tra Civitavecchia ed Ottavia ad aprire il nuovo campionato di eccellenza. Sono infatti stati svelati i gironi e i calendari completi del massimo campionato regionale. La squadra nerazzurra, guidata da Massimo Castagnari, è stata inserita, come di consueto, nel girone A ed esordirà l'8 settembre al Tamagnini contro l'Ottavia. Un turno che sulla carta sembra morbido, mentre più complicato sarà il match della settimana successiva quando i Civitavecchiesi faranno visita all'FC Rieti. Girone A che comprende oltre Civitavecchia, Rieti e Ottavia, anche Ladispoli, Aranova, Aurelia Antica Aurelio, Boreale, Certosa, Colleferro, FC Viterbo, Fiumicino, Luis, Pomezia, Sorianese, Romulea, Tivoli, Valmontone e V3 Maccarese. Girone tostissimo come ci si attendeva con almeno 6-7 squadre che potranno giocarsi i primi posti della classifica, compresi ovviamente i Nerazzurri. Tra le gare e le date da tenere in considerazione ci sono ovviamente i due derby contro il Ladispoli in programma il 15 dicembre all'Angelo Sale e il 24 aprile al Tamagnini. Importanti anche le doppie sfide contro la Tivoli andata il 10 novembre, ritorno il 16 marzo e poi in rapida successione dalla dodicesima alla quindicesima giornata contro FC Viterbo, Valmontone e Pomezia, prima appunto del derby con il Ladispoli. Campionato Nerazzurro che si chiuderà con la V3 Maccarese andata il 5 gennaio fuori casa e ritorno al Tamagnini 4 maggio 2025 nell'ultima giornata di eccellenza.